Non un'operazione di beneficenza per aiutare i cittadini in epoca di caro carburanti, ma un vero e proprio business basato su una truffa. Sono 172 le persone denunciate per 45 milioni di euro di IVA e VASA. L'organizzazione rivendeva sotto banco carburante importato a prezzi fuori mercato, senza assolvere l'IVA. Un affare che, nell'epoca del boom dei rincari, ha fatto gola a molti, visti i prezzi di rivendita. A scoprire la truffa, messa in atto su tutto il territorio nazionale, sono stati i finanzieri del Comando Provinciale di Pescara. L'operazione Oro Nero ha demolito l'architettura di un sistema fraudolento. Le 172 denunce riguardano reati tributari di emissioni e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, oltre che riciclaggio, autoriciclaggio e bancarotta fraudolenta. L'organizzazione era strutturata secondo uno schema piramidale, con ai vertici i fornitori nazionali e comunitari di petrolio, dai quali società tarocche e per niente operative rappresentate da prestanome nullatenenti e che mai avevano operato nel settore carburante, acquistavano l'oro nero senza applicare l'IVA, per poi rivenderlo alle pompe bianche a prezzi stracciati, di nuovo senza versare l'IVA. Il meccanismo fraudolento si basava sull'utilizzo di fatture false, aggirando la normativa fiscale a danno dell'erario. Il bottino ingente veniva equamente spartito tra i protagonisti. A fronte di un imponibile di più di 207 milioni di euro, l'IVA evasa ammonta a oltre 45 milioni di euro. Secondo le disposizioni delle procure della Repubblica di Lanciano e Velletri, alle società coinvolte sono stati sequestrati, finalizzati alla confisca, 8 milioni di euro. L'operazione ero nero è un esempio importante di come questo tipo di attività illecite vada a pregiudizio non soltanto dell'erario dei cittadini, ma abbia causato una forte alterazione del mercato, soprattutto in questo momento in cui pesa sulle tasche dei cittadini il caro carburante. Grazie.